Eccolo Pronto? Eh buonasera, mi riferisco all'inserzione su... Vorrei sapere la zona, cioè dove è ubicato Ecco, allora, via Bettolo Via Bettolo? Bettolo Con la B Allora, le faccio lo spelling? Sì B come Napoli, B E come Milano T come Torino O come Otranto L come Roma O come Otranto Bettolo Va bene? Va bene Le interessa? Sì, sì Allora, senta Numero, non me l'ha detto 16 16 Come? Piano Bologna Il piano, secondo Secondo piano Va bene? Sì Numero di vani Sì, però adesso c'è un signore dentro che è un po' anziano, eh? Lo dice lì sopra, sì, ma si renderebbe libero quanto prima, vero? Le posso fare? Posso farle una confidenza? Sì, prego Questo signore, io ho visto le analisi Sì Ma adesso non vorrei dire queste cose che sono un po' brutte Però dall'analisi Secondo me ha 87 anni Ah Lei capisce? Certo Non so se arriva sabato o domenica, eh? No Ecco Ha capito? Sì Ti ricordo un film di queste storie Eh, lo so, lo so Sento un po' Mi può dire i vani? Sì Aspetti, c'è il signore Io lo passo al proprietario? Prego Così si rende pure conto come sta, eh? È un po', parla un po' astrascico, capisce? Sì Eh, ora io lo passo, eh? Lei non mi può parlare Signor Alessandro Non mi può dire lei? Cosa? Non mi può dire lei? Sì, però ripeto che questa è una persona anziana Capito Deve essere Così Deve sapere che sta vendendo Sì, certo Eh, che altrimenti mi può denunciare Signor Alessandro, c'è un signore che vuole comprare La sigaretta? Cosa? Pronto? Pronto, sì, buonasera Buonasera, come sta? Non, guardi, non riesco a capire nulla Aspetti Che mi levo la dentiera Dì a me, signor Alessandro Dì a me Pronto? Sì Non riesco a capire nulla Eh, mi scusi Viene Tolo In quale zona è di Roma? Aspetti un attimo Alessandro chiede Quale zona è di Roma? Quale quartiere? Dica al signore Viene delle milizie Delle milizie? Sì Va bene? Vuole sapere qualcos'altro? Sì, vuole sapere il numero dei vani I vani? Sì Quanti vani? Quanti vani? Aspetti che c'è una piccola amnesia Sì Vado a controllare Aspetti un attimo Vomiti, vomiti, vomiti Vomiti, vomiti, vomiti Pronto? Sì Mi scusi, ti ha vomitato per terra Simona prendi la scopa? Sì Sì Senta, mi scusi Che vola sapere me lo dica a me No, il numero dei vani Madonna, guarda che ha fatto per terra Ma che cosa ha fatto per te? Manzi, io dico, ma guardi che cosa ha fatto per te Ma io dico, ma vomiti nella busta Pronto? Sì Mi scusi, eh Il numero di? Vani? Di? Quanti vani ha? Eh, prima erano due Ma uno è pieno di... Ci ha vomitato E che ne è rimasto uno? Eh, no Metratura qual è? Senta, lei le va di scherzare, vero? No, e semmai lei che non... Io sono ottene che le vorranno 70 metri quadri comunque 70 70 metri quadri, eh Eh Ecco, per 70 Venga qua, venga qua Mannaggia Saluti, aspetti le passi una persona, la saluta, eh Senta Grazie, buonasera, grazie Grazie, grazie